Ecco Damiano, fai play, vediamo cosa riesce a fare, primo tentativo, secondo tentativo e queste sono facili dai Pronti per Youtube, eccolo lì, ora ti voglio vedere, pronti per Youtube, questo l'ho passato, sì, dopo quanti? Tre volte, rifare, pronti via, primo tentativo, sembra cacciata, ma, è chiaramente, a parte che io per farlo, ora mi sono dovuto attaccare quasi al monitor per vedere i millimetri che passavano, stadio 3, secondo tentativo, molti voglio vedere E che oggi fa? Giusto, giusto Bastardo Io stavo un po' saluta Bastardo metto di mezzo Grazie per aver guardato il video